Ciao e benvenuti nel mio secondo What I Eat In A Day, una tipologia di video che amo particolarmente. Cominciamo dalla colazione, uno dei pasti che mi piace di più la mattina. Allora stamattina a colazione ho mangiato questo Overnight Porridge accompagnato da questo buonissimo tè Sencha, è un tè libero in foglie, infatti sotto ci sono un po' di residui. Nell'Overnight Porridge ci sono ovviamente avena, semi di chia, poi bacche di goji, cocco in scaglie, mandorle e semi di zucca. Insomma un bel mischione come piace a me. Passiamo allo spuntino di metamattina. Stamattina non avevo molta fame però ho voluto provare questa Kinder Cereale che ho visto nella pubblicità agli agrumi e volevo vedere com'era. E' effettivamente buona e gli ingredienti non sono malaccio. E ho accompagnato la Kinder Cereale con questo caffè verde, ananas, tè verde e zenzero. Una tisana della viropa che contiene appunto questi ingredienti. Serve ad accelerare un po' il metabolismo, è un sapore molto gradevole. Pranzo, passiamo al pranzo. Allora oggi per pranzo la mia mamma mi ha preparato uno dei miei piatti preferiti, la pasta e facioli. Queste splendide lumachine con i fagioli, buonissime. E anche il secondo è uno dei miei piatti preferiti, cioè questa straordinaria frittata di carciofi. Come la fa la mia mamma non ce n'è, con la maggiorana dentro è buonissima. E ho concluso il pranzo con della frutta, in particolare delle nespole. Passiamo quindi alla merenda. La merenda del pomeriggio di oggi è composta da questo yogurt di soia della Granarolo. Yogurt bianco dolce con semi di soia tostati. Io lo trovo buonissimo, eccezionale. Buono lo yogurt e poi questi semi di soia sopra, quei cantini, sono buonissimi. Ho bevuto poi questa trisana drenante della viropa, virdrenante, che contiene tante erbette, drenanti, ortica, tarasso, cobetulla, che io mi sto sforzando di farvi vedere, ma non si legge proprio niente. E passiamo infine alla cena. Allora, per cena c'è un piatto tipicamente pugliese, che è questa purea di fave, con delle erbette di campagna lesse. Questo è un altro piatto che io adoro, anche detto favetta, appunto questa purea di fave. Di solito si accompagnano con le cicorie, però a me la cicoria non piace tanto perché è troppo amara, quindi ho preferito le erbette di campagna e poi per frutta delle ciliegie. E questa era la mia giornata alimentare. Fatemi sapere cosa avete mangiato anche voi.